... Marchio di riferimento del miglior made in Italy dell'abbigliamento tecnico chic tra i motociclisti Blauer nel 2013 punta decisamente al pubblico femminile Se è vero, come dice il claim di Eichmann, che i motociclisti sono cambiati Lo è altrettanto che sono sempre più numerose le ragazze bikers in tutto il mondo Allora, nel 2013 abbiamo presentato in anteprima la donna Blauer Etech, Easy Woman Abbiamo dedicato tutta la comunicazione che ha preceduto questa manifestazione dedicandola alla donna, alla donna nel senso proprio femminile Abbiamo creato questa Easy Woman con un fit donna, con dei colori donna comunicandola in un contesto dedicato a lei La donna è molto difficile da portare nei negozi moto e accessori sono negozi a lei molto stili, li guarda un po' da lontano Invece con questi prodotti e presentandoli in modo giusto credo che la donna si possa riconoscere anche in questi negozi trovando veramente un po' di fashion, un po' di buon gusto, un po' di immagine e quindi facilitando la sua entrata in questi negozi e quindi vestendo anche lei con un minimo di sicurezza senza perdere eleganza nel loro movimento quotidiano sul due ruote Blauer ha da tempo conquistato un posto importante nel panorama dello sport fashion con una capacità notevole di coniugare stile e sicurezza Una sintesi efficace di savoir faire spositamente modaiolo con la miglior tecnica per la protezione del motociclista sia uomo che donna Questo sicuramente, noi continuiamo a guardare a questo mondo con gli occhi del nostro mondo principale, quello dello sport wear fashion e credo che il segreto sia proprio questo di interpretare questo mondo assolutamente senza rinunciare a quelle caratteristiche tecniche che questi prodotti devono avere quindi tecnicità del tessuto con membrane windstopper o traspiranti e waterproof ma dando un fit, un colore, una vestibilità assolutamente fashion questo sia nella donna che nell'uomo il nostro motto anche quest'anno per lanciare questo nuovo prodotto era Be always beautiful, riders are changed La storia di Blauer ci racconta di una esemplare competenza italiana nello stile che si sposa a una tradizione radicata anche al di là dell'oceano atlantico Direi che funziona molto Blauer è un marchio americano che tutt'oggi fornisce l'abbigliamento per le forze di polizia degli Stati Uniti d'America è uno dei tre marchi più importanti in America il connubio work garment quindi tecnicità del capo e fashion è un connubio che funziona e ha sempre funzionato il capo può assolutamente essere tecnico ma può essere anche fashion e comunque l'America, le stelle strisce, la bandiera americana e tutto il mondo americano ha sempre assolutamente un suo fascino